Ciao ragazzi da Vittorio, si è appena conclusa proprio un secondo fa la conferenza stampa di Simone Inzaghi, conferenza stampa mai così importante, perché c'erano tantissime cose da discutere. La prima soprattutto era Luis Alberto, perché ve l'ho detto anche negli altri video, l'avete letto sui giornali, molti giornali dicono addirittura che lo Tito voleva Luis Alberto fuori rosa, addirittura venduto a gennaio, rottura col club, a giugno Luis Alberto va via, insomma tante chiacchiere. Tante secondo me fregnacce e oggi era importantissimo sentire Simone Inzaghi. Dispiace che i giornalisti non hanno avuto il coraggio tra virgolette a chiedere più dettagli sulla vicenda a Luis Alberto, però Inzaghi è stato abbastanza chiaro, ha detto che Luis Alberto ha fatto un errore, una cavolata, lo sappiamo tutti, verrà multato dalla società, anche questa è una cosa che sapevamo tutti, ma contro Crotone potrebbe giocare. Simone Inzaghi ha detto che deciderà sabato mattina chi giocherà, stessa domanda vale per Ciro Immobile, ma anche per tutti i nazionali rientrati in campo, rientrati oggi o nei giorni scorsi. Per cui Luis Alberto non è assolutamente fuori rosa, come diceva il messaggero, ma io ve l'ho detto che non c'era da crederci. Non sarà in panchina domani per scelta della società, l'unica cosa che riceverà sarà una multa, ma questo mi sembra più che giusto. Quindi Luis Alberto a disposizione di Simone Inzaghi, sarà l'allenatore a decidere se utilizzarlo contro Crotone o risparmiarlo per la partita contro Olseni. Quindi la domanda più importante, la risposta più importante è quella su Luis Alberto, che sarà a disposizione sabato contro Crotone. Inzaghi deciderà sabato mattina, c'ha ancora tanti dubbi, l'ha detto lo stesso allenatore da Lazio. Io immagino che con l'assenza di Minko Istavic, Luis Alberto quasi sicuramente partirà titolare. Come dovrebbe partire il titolare anche Cire Immobile, insomma Inzaghi ha detto che è vero, non si è allenato tanto, ma lo ha visto bene, l'ha visto in condizioni, l'ha visto molto motivato, ma quello l'avevamo visto anche noi sui suoi canali social, che Immobile sembrava molto carico, molto motivato. Non ci sarà Thomas Stracoscia, che oggi ha svolto visite mediche, si è riaggregato al gruppo, ma Inzaghi ha detto che il giocatore non è ancora pronto, ci vorrà un po' di tempo, quindi verosimilmente contro Crotone e Reina, contro Zenit dovrebbe fare il suo ritorno in campo Thomas Stracoscia. Da invece indagare per Luis Felipe, perché Simone Inzaghi ha risolto il dubbio, ce l'eravamo chissi tutti, Luis Felipe ha contratto il coronavirus, è asintomatico, l'ha detto Simone Inzaghi, però sarà fuori quasi sicuramente per la partita contro Crotone, dovrebbe, potrebbe recuperare per la partita contro lo Zenit martedì, anche se è un po' difficile. Però ha tolto il dubbio, noi tutti ci chiedevamo, cavolo, rientrato contro la Juve, già subito infortunato, invece no, semplicemente Luis Felipe ha contratto il coronavirus e quindi deve stare fermo. Sarà fermo anche Scalante, ma non perché ha contratto il virus, ma perché sta recuperando dopo un paio di settimane fermo. Inzaghi ha detto che è sulla via del ritorno, ma ci vorranno un paio di giorni. Immagino che dovrebbe essere recuperato per la partita contro lo Zenit. Discorso a parte per i nazionali. Murici si è allenato oggi, AKP Pro è tornato ieri, c'è anche Correa. Insomma, Inzaghi ha detto che per i nazionali valuterà oggi e domani se fa di partita il primo minuto o meno. Inzaghi ha quindi abbastanza dubbi. Ha detto che Caicedo è recuperato, si è allenato bene, quindi è pronto. Caicedo che, vi ricorderete tutti, la prima volta che ha giocato a Crotone, insomma, si è mangiato quel gol che tutti definirono gol Champions. Segnando in quell'occasione la Lazio avrebbe battuto Crotone e probabilmente raggiunto la qualificazione in Champions. Però, da quel momento, Caicedo si è decisamente ripreso. Probabile che parta a titolare domani insieme a Ciro e Mobile. Visto che Correa è rientrato dall'Argentina, Murici si è allenato solo oggi e quindi Inzaghi probabilmente preferirà far riposare i nazionali in vista della partita contro lo Zenit martedì. La notizia importante è però che quasi sicuramente Luis Alberto ci sarà e se non giocherà sarà semplicemente una scelta tecnica. Ciao, alla prossima!